Eichiro Oda ha rivelato 10 segreti su One Piece, o almeno ha cercato di rivelarci qualcosa, perché le informazioni che abbiamo ricevuto in questo Q&A sono state un po' sempliciotte, niente di troppo eclatante, e ci ha dato anche più dettagli che riguardano un particolare incidente avvenuto nel mondo di One Piece appunto, e sempre nel suo solito ci dice qualcosa ma non ce la dice. Dunque in questo video farò un recap delle domande e risposte, inserirò anche delle informazioni che completeranno quelle che sono state svelate, vi dirò cosa ne penso e qualche teoria a riguardo, ed infine tra una domanda e l'altra incastrerò qualche news arrivata in quest'ultimo periodo. Il tutto sarà ovviamente casuale e non seguirò il numero preciso delle domande fatte al mangaka, quindi direi di andare con ordine e non perdere altro tempo ed iniziare subito. Ovviamente se vi va lasciate un like, un commento e se non siete iscritti iscrivetevi, vi basta fare un semplice click, vi ringrazio. Iniziamo subito da qualcosa di interessante, questa prima domanda riguarda Garling Figgerland, infatti domandano se nell'incidente di God Valley questo cavaliere divino avesse affrontato i pirati o se per caso è davvero forte il combattimento. Oda qui è stato vago, ma ci ha dato forse qualche bel indizio e quest'ultimo lo troviamo se scaviamo a fondo, infatti il mangaka dice che lui è forte, ma c'è un motivo ben specifico dietro alla sua potenza. Questo mi ha fatto pensare alla famiglia, ossia ai Figgerland, probabilmente quest'ultimi sono molto talentuosi già da piccoli ed imparano velocemente diventando molto potenti in poco tempo e migliorando sempre più. Dico questo perché vorrei collegare questa domanda appena fatta ad un'altra che hanno posto sempre all'autore di One Piece. Quest'ultima riguarda Shanks e si basa sull'attacco che il rosso sferra Kid, ossia il Kamusari. Dunque l'attacco gli è stato insegnato da Roger o Shanks lo ha imparato imitando il suo ex capitano? La risposta potrebbe confermare la mia ipotesi sulla famiglia Figgerland, dato che Oda dice che il rosso ha sempre visto Roger combattere da vicino e il Kamusari non è un attacco che si emula facilmente ed è difficile anche per i ciurmati del re dei pirati, ma Shanks ci è riuscito grazie al suo grande talento. Per cui probabilmente con queste due risposte l'autore ha voluto darci un indizio sulla famiglia Figgerland, ossia che sono talentosi nel combattere e diventano forti in poco e niente, migliorando sempre più. Ora vorrei parlarvi di un'informazione che è stata rivelata nell'SBS del volume 110. Qui il Mangaka ci ha detto come si chiamano i due gomiti che possiedono la tribù dei braccia lunghe. Allora, il gomito quello più vicino alla mano si chiama Tomohiji, che tradotto significa gomito dell'amicizia. Invece quello più vicino alla spalla si chiama Koihiji, che vuol dire gomito dell'amore. Queste parti del braccio hanno questo nome per rappresentare le emotività dei braccia lunghe verso la loro tribù e verso i loro cari. Una domanda che Oda ha ricevuto riguarda il funzionamento delle taglie che la Cross Guild ha messo sulla testa dei Marines e il Mangaka risponde tranquillamente spiegandoci il sistema delle taglie e funziona così. Una stella vale 100 milioni di berri ed una corona vale un miliardo di berri. Dunque il grande ammiraglio possiede 5 corone sulla sua testa, gli ammiragli invece hanno 3 corone ciascuno, i vice ammiragli possiedono 5 stelle, i contrammiragli 3 stelle, i capitani e i comodori 1 stella. Naturalmente ci sono anche casi speciali di Marines famosi, che nonostante il loro grado hanno ottenuto più stelle o corone, come per esempio Garp o Kobe. E questa domanda potrebbe collegarsi ad alcune informazioni che abbiamo ottenuto nell'SBS del volume 110. Qui l'autore ci ha dato tantissime info che riguardano i vice ammiragli che hanno partecipato al fallimentare Buster Call di Eged. Ed abbiamo anche qualche info in più su alcuni membri della Sword. Iniziamo da Doll. Lei è un'anima rock'n'roll ed è una bravissima artista marziale. Poi troviamo Red King che colpisce i nemici con quel suo braccio steampunk. Mi aspettavo qualcosa in più su quest'ultimo che riguardasse il suo aspetto, ma vabbè. Continuiamo con Giyotin. Lui può usare la lama che è posta sulla sua testa ed essa funziona a mo' di boomerang. Tosa invece combatte usando uno stile molto interessante chiamato il punto del tè della terra. Se notate sembra tipo un morso di un cane, infatti il suo nome è ispirato proprio al Tosa, che sarebbe una razza di cane che possiede l'omonimo nome del vice ammiraglio. Poi c'è Ound che ha mangiato il frutto Zoan inuino modello Segugio ed era un compagno di smoker. Pomsky invece ha mangiato il frutto Zoan Rako Rako modello lontra, che lo fa trasformare appunto in una lontra o in un ibrido uomo lontra, e combatte usando una conchiglia. Fatto curioso sulle lontre, quest'ultime hanno una passione per i sassi, infatti possiedono una speciale tasca posta dietro alle zampe anteriori, dove conservano il loro sasso preferito per poterci giocare ogni tanto, e questo potrebbe collegarsi alla conchiglia che usa il vice ammiraglio. Continuando, c'è Urban che ha mangiato il frutto Paramisha Tsutsu Tsutsu, ossia cannone-cannone, ed è diventato praticamente un'artiglieria umana, infatti la cima della sua testa può trasformarsi in un cannone, frutto simile a quello di BB5, ma penso che Urban possa solo trasformarsi in armi da fuoco e non da taglio. Poi c'è Bluegrass che ha mangiato il frutto Paramisha Norinori, che significa cavalca-cavalca, e come dice il nome, può cavalcare qualsiasi cosa, che siano oggetti o esseri viventi. Questo però deve essere intorno al suo range di Aaki, penso che questa dicitura ci fa capire che persone fin troppo forti, proprio a livello di ambizione, non possono essere usate come cavalcatura da Bluegrass. Quest'ultima è come una sorella maggiore per Tsuru. Invece per ciò che riguarda i membri della SWORD ci hanno detto l'altezza e gli anni, e ci viene svelato che Prince Gruus non è un vero principe, ma è solo molto ricco. La prossima domanda riguarda Barba Nera, e nello specifico parlano della sua imbarcazione. Infatti domandano se la Seber of Sebek abbia qualche collegamento con Rox di Sebek. Oda risponde dicendo che la Sebek è ovviamente il nome del veliero, ed è vero, esiste davvero questo tipo di imbarcazione, ma poi aggiunge che potrebbe esserci un collegamento con Rox oppure no. Naturalmente l'autore non fa mai cose a caso e sono super sicuro che ci sia un collegamento anche alquanto palese tra Titch e Rox. La domanda seguente riguarda Aokiji, e si chiedono quale ruolo abbia nella ciurma di Barba Nera e se per caso ha dei sottoposti. Il mangaka conferma che Kuzuan ha dei sottoposti, ma il suo modo di vedere la pirateria è un po' diverso. Inoltre non solo non obbedisce a tutti gli ordini che il capitano gli dà, e non per forza deve compiere azioni malvagie, ma per lui essere un pirata vuol dire essere libero. In ogni caso, a quanto pare durante la sua permanenza nella ciurma dell'Imperatore Oscuro ha causato alcuni incidenti. Non vengono detti quali, ma forse uno possiamo ipotizzarlo, e sarebbe quello dell'attacco a Volkik Island del rapimento di Pudding. Secondo me questo potrebbe essere considerato un incidente, poi chissà. E parlando di incidenti, appunto, è uscita fuori una domanda che riguarda proprio l'incidente di Rockyport. Noi qualcosa l'abbiamo scoperta tramite la lettura del manga, ma mancavano dei pezzi e qui l'autore ci svela quasi tutta la dinamica dei fatti. Allora, Lo aveva scoperto che su Acinosu si nascondeva un importante poneglyph, per cui ha preso il controllo di una nave con dei passeggeri chiamata Rockyport, e si è infiltrato all'interno dell'isola Teschio. Su questa imbarcazione a quanto pare c'era un re ed alcuni nobili di una certa nazione, che non viene menzionata, ma alla fine si rivelò che la Rockyport in realtà era una nave di pirati di Acinosu che facevano il contrabbando, e il chirurgo della morte ha dovuto affrontare questi pirati. Poco dopo arrivarono anche Kobe e Barba Nera, ma i due approdarono su Acinosu separatamente, e per obiettivi totalmente diversi. E casualmente i tre personaggi unirono le forze, e Tich divenne il sovrano di Acinosu, Lou divenne un flottaro e Kobe invece venne riconosciuto come un eroe. Questo è ciò che ci ha detto ora l'autore, e se li uniamo con le informazioni che già conosciamo, il puzzle si completa. Cioè, Kobe durante questo casino ha protetto e salvato i civili, diventando appunto un eroe. Barbariera approfittando del trambusto ha sconfitto Ochaku, che era il precedente sovrano dell'isola dei pirati, prendendo appunto il suo posto. Ed invece Lou rubò 100 cuori dei pirati di Rockyport, e li portò al governo mondiale, ottenendo un posto nella flotta dei sette. Quindi Rockyport in realtà non è un porto come si pensava, bensì è il nome di una nave che contrabbanda merce illegale. Penso però che la cosa che più mi ha interessato di tutta questa storia riguarda il poneygriff che voleva Trafalgar Lou. Chissà che informazioni contiene, lo scopriremo, penso, durante la lettura del manga. Una domanda invece è riferita a Sabo e al potere del Mera Mera, dato che ha mostrato di essere veramente potente col quel frutto, e si pensa che stesse seguendo un allenamento intensivo per imparare i poteri di quel roja, e l'autore diciamo che conferma tale ipotesi. Infatti Sabo si allena ogni giorno, ed è per questo che è diventato subito bravo ad usare il Mera Mera. La domanda seguente che è stata posta all'autore di One Piece è una delle più interessanti, e infatti chiedono se Dragon ha mai vissuto insieme a Rufy. Oda risponde con un sonoro no, però ci spiega anche il perché. Dato che Dragon è il capo dell'armata rivoluzionaria, e se per caso avessero rivelato la parentela con Rufy, la vita di quest'ultimo sarebbe stata in pericolo. Naturalmente il mangaka intende quando era un bambino e non ora che si conosce la verità sulla loro parentela. Inoltre Oda ci fa capire che probabilmente Dragon ha sofferto quando ha dovuto dire addio al figlio, e penso che sia stato anche felice di averlo visto a Rogue Town. Inoltre, quando dice che Dragon non ha vissuto con il figlio, il mangaka inserisce una frase misteriosa. Difatti dice che per quello che Rufy ricorda, il padre non ha vissuto con lui. Dunque è probabile che quando il protagonista di One Piece era ancora in fasce, il padre sia rimasto con lui per un po' di tempo insieme alla misteriosa madre. O almeno questo è quello che io penso e che io ho capito. Sia chiaro. Ma credo proprio che questa domanda avrà una risposta quando vedremo il flashback di Monkey D. Dragon. Quest'altra domanda che sto per dire si collega in un modo incredibile anche ad un SBS del volume 110, perché nella domanda viene chiesto al mangaka come funzionasse il sistema della leva militare che la marina ha fatto. Oda risponde dicendo che i paesi affiliati al governo hanno i propri militari che difendono questi ultimi. Quindi a rigor di logica la leva militare della marina è servita per reclutare i migliori soldati di questi regni ed inserirli quindi nei ranghi della marina. Pensate poi che questo reclutamento è stato anche uno dei fattori scatenati delle rivolte degli otto paesi. Come sapete questa leva militare è stata un'idea di Akainu, dato che è fissato con la potenza, ed ha voluto reclutare persone potenti che provengono da questi militari delle nazioni affiliate al governo. Ed ancora una volta ha sbagliato, ma lasciamo perdere il ciò e parliamo di Isshu ed Aramaki, perché nelle ultime SBS non solo sono stati disegnati da bambini, ma abbiamo avuto anche qualche informazione in più sul loro passato. Aramaki proviene dal South Blue e ricopriva il ruolo di poliziotto nel regno d'Italia e a quanto pare fu colpevole di un grande incidente in cui era coinvolta una donna e per questo motivo fu imprigionato. Nonostante ciò la reputazione che Aramaki fosse potentissima arrivò fino al governo mondiale. Venne quindi arruolato nella marina e promosso immediatamente come nuovo ammiraglio. Penso che questa informazione che riguarda l'incidente che ha causato e che c'era di mezzo una donna potrebbe collegarsi all'inquietante tatuaggio che l'ammiraglio verde possiede, che possiede questa scritta che dice così, Shikawa Shinju, che significa doppio suicidio al fiume della morte o qualcosa del genere. Invece per quanto riguarda Isshu, quest'ultimo è nato da qualche parte della Grand Line e forse dal suo vestiario possiamo capire dove. A parte ciò, le storie di Fuggitora sono un po' strane. Diciamo che molto tempo fa, quando si trovava ancora nella Grand Line, divenne capitano delle guardie di un paese che faceva parte del regno di Aoi e Isshu divenne un criminale dato che quel regno venne distrutto da una guerra. Poi perse un sacco di soldi su di un'isola che porta il nome di Souja nel West Blue e venne poi assunto dal governo come guardia del corpo ed ha fatto ciò perché ha ricevuto una grande somma di denaro. Ora cerchiamo di capire un po' le dinamiche. La parte dove perde i soldi e poi diventa guardia del corpo penso siano collegate. Sappiamo che Isshu è un giocatore d'azzardo e probabilmente doveva dei soldi a qualcuno sull'isola dei serpenti gemelli e quindi prese i soldi che ebbe come guardia del corpo e ripagò il debito. Sempre secondo me sia chiaro. Poi penso che Fuggitora si sia accecato quando scoppiò la guerra nel regno di Aoi e il governo sa tutto ciò e la marina lo ha comunque assunto e promosso come ammiraglio, istantaneamente. Poi avete notato che il vestiario di Isshu da bambino è uguale a quello di Ryuma o almeno la parte bassa dello stesso. Io penso che questo sia un indizio fondamentale, ossia Fuggitora e Diwano, anche perché la sua spada è stata forgiata proprio lì nel paese dei samurai ed è addirittura una delle dodici di suprema fattura. Arrivando all'ultima domanda, viene chiesto ad Oda il funzionamento del potere di creare oggetti dal nulla da parte di Rufy quando si trova in Gear 5 e l'autore risponde con quello è l'ingresso nella fantasia di Nika. Cioè, ok ho capito che non potevi rivelare una cosa del genere così. Ma che vuol dire? Forse quando si trova in quella forma Rufy riesce a creare gli oggetti grazie proprio alla sua immaginazione e che potrebbe attingere alla fantasia di Nika e al potere del dio del sole? Cioè io questo ho capito. Però con molta probabilità sotto c'è un mistero bel più grande. Avevamo capito il fatto dell'immaginazione e tutto, ma spero che la spiegazione in toto sia ancora più interessante. E prima di chiudere il video vi devo dare l'informazione più importante di quelle che avete sentito fino a questo punto. Il mangaka ha finalmente svelato che ha creato i vestiti che indossano i Gorosei. E quest'ultimo non è altri che Nyorio o Niarmani, che proviene dal regno di Nagagutsu, che significa stivali di pelle, e che si trova nell'East Blue. Questa era un po' squallida, ma si nota palesemente il riferimento a Giorgio Ammani. Inoltre questo personaggio viene chiamato il re della moda e non ho ben capito se sia un gatto anziano, quindi un visone, o se sia vestito da gatto, oppure se ha mangiato un fruttozona del gatto. Non so, ma va bene così. E che dire, penso di aver detto tutto, ora sta a voi, fatemi sapere cosa ne pensate del video e delle informazioni che sono state svelate, ovviamente mi aspettavo proprio tutto ciò perché non poteva mai rivelare cose importanti che andassero ad intaccare la macrotrama di One Piece. Passate ovviamente sul canale telegramma di One Piece Unity per discutere di queste news insieme ad altri appassionati come voi, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati, e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.